Facciamo un po' di chiarezza sul bagaglio a mano Ryanair, visto che le regole sono cambiate da poco e in giro c'è un po' di confusione. Chi volerà entro il 31 ottobre 2018 avrà compreso, nel prezzo del biglietto aereo, due bagagli a mano. Un bagaglio a mano più grande, con dimensioni massime di 55x40x20 cm, un peso massimo di 10 kg, e un bagaglio a mano più piccolo, come ad esempio una borsetta da donna, un piccolo zainetto o una borsa porta laptop, con dimensioni massime di 35x20x20 cm. Solo però chi acquisterà l'imbarco prioritario potrà portare entrambi i bagagli all'interno del velivolo. Chi invece non opterà per l'imbarco prioritario dovrà consegnare il bagaglio a mano più grande al gett d'imbarco, che verrà poi estivato gratuitamente all'interno dell'aereo e riconsegnato a destinazione. Chi invece volerà partire dal 1 novembre 2018 avrà compreso nel prezzo del biglietto aereo un solo bagaglio a mano, con dimensioni massime di 40x20x25 cm. Per portare invece il bagaglio a mano più grande, il classico trolley, bisognerà acquistare la priorità d'imbarco. Spero di essere stato chiaro e buon viaggio! Ti aspetto anche sul mio profilo Instagram VoloGratis e sulla mia pagina Facebook VoloGratis.org.